Ripristinare un servizio che è senza dubbi importante per il territorio, peraltro diminuendo in maniera drastica l'impatto ambientale, aspetto non di poco conto, è quello del trasporto su rotaia che collega Rivarola a Ponte Canavese, tramite l'elettrificazione della tratta che, finalmente, dovrebbe aver trovato il definitivo sblocco e quindi l'avvio dei lavori tanto attesi. Nella rapertura, dopo che il passaggio di treni da e per le nostre valli ha subito uno stop a fine del 2020, appunto per permettere il potenziamento delle infrastrutture del territorio, non avverrà come inizialmente previsto nel 2023, ma quest'anno sarà decisivo per compiere tutti i passi necessari per definire la realizzazione del progetto. Nei giorni scorsi la regione Piemonte ha reso noto che entro la fine dell'anno vi sarà la gara di appalto, che a quel punto individuerà l'azienda che dovrà prevedere la realizzazione dei lavori per l'elettrificazione del soplicitato tratto che porta sino a Ponte, toccando diverse stazioni, Fabria, Salassa, San Ponce, Valperga e Quarnier, le quali ormai da oltre due anni a questa parte sono inutilizzate per il servizio su rotaia. Successivamente spazio al cantiere, che secondo le previsioni dovrebbe completarsi nell'arco di 18 mesi. Una notizia che è vista come un punto a favore del territorio, anche se, come spesso accade, c'è chi invece vorrebbe che a livello di movimentazione delle persone in maniera, tra regolette, green, si applicassero soluzioni diverse, come ad esempio la realizzazione di un tracciato al ciclo pedonale al posto proprio attuale tratto della ferrovia. Grazie. Grazie.